L'Azzurra è passata in collo, ma è alla frontiera, tutto a posto, contro ogni parere di tutti. Ora è su un autobus che dalla confine lo porta alla prima cittadina, sono 20 km da lì, poi proveremo a fare l'autostop. Oh, sono molto pessimista perché comunque il sole, non ci sono più di, credo, più di due ore di sole, per cui si farà quello che si può. Conto di dover prendere un autobus, comunque sia un treno o qualcosa, speriamo di quello che c'è. L'Azzurra vi saluta, speriamo, tutto a posto.